Benvenuti, benvenute, sono Giuseppe. Vi parlo ancora di tastiere di scrittura in Biblos. Vorrei farvi vedere una tastiera che ha sviluppato un mio collaboratore dell'India, che si chiama Zrini. Cioè, è un diminutivo del suo nome. In realtà si chiama Zrini Vasamurti. Non lo so quale sia la pronuncia esatta. Zrini Vasamurti, BG. È così. È molto difficile per me pronunciare questi nomi stranieri. Comunque, Zrini ha sviluppato questa tastiera per scrivere in lingua cannada. Io non ci capisco un carattere della lingua cannada, però mi fido di Zrini, che ha sviluppato anche la tabella per stampare in braille per la lingua cannada. E ora vi faccio vedere come poterla attivare, perché l'ho isolata nell'interfaccia inglese. Questo significa che chi utilizza Biblos in italiano non vede la tastiera cannada. Ma chi utilizza Biblos in inglese, come il mio collaboratore Zrini, allora vede anche la tabella cannada. Allora, siamo su Biblos. Posso scrivere normalmente. Ecco, ho scritto un po' di caratteri. E siamo con una scrittura latina. Ora, i caratteri della lingua cannada sono completamente diversi. E, ripeto, non conosco nemmeno se siano vocali o consonanti. O meglio, per fare un lavoro mi sono avvalso di chat GPT per identificare quali erano consonanti o vocali. Allora, strumenti, andiamo su tastiere, vi faccio vedere cosa c'è adesso con l'interfaccia italiana dentro il menu tastiere. E questa è la situazione che si trovano gli utenti italiani quando installano Biblos e usano Biblos in lingua italiana, con l'interfaccia italiana. Quindi, dentro il sottomenu tastiere, c'è la tastiera per scrivere in greco antico, la tastiera per scrivere in esperanto, la tastiera per scrivere in latino, la tastiera per scrivere alcuni caratteri della matematica, scrittura avanzata, che serve, diciamo, a potenziare la tastiera, la tastiera per scrivere in HTML, per facilitare la scrittura in HTML, e poi niente, poi c'è il menu, la finestra, il comando che apre la finestra per personalizzare le tastiere. Ma andiamo fuori da questo menu, andiamo giù su opzioni, opzioni, ok, opzioni generali di Biblos. Siamo già nel campo per scegliere la lingua dell'interfaccia utente. Modifico la lingua, andiamo a impostare Biblos in inglese. Ok, andiamo a confermare su ok, andiamo a faccio qualche shift tab. Ok. E adesso Biblos è in inglese. Andiamo a vedere cosa c'è adesso nel sottomenu tastiere, che non si chiama più tastiere, ma si chiama Keyboards. Edit, VF, Insert, Format, Tools, Menu Tools, Bright, Caracter, Dictionary, Informazione, Internet, Sottomenu, Keyboard, Sottomenu. Keyboards. Ok, andiamo dentro. Cannada attivato. Cannada, ed è già attivata come tastiera, perché l'avevo attivata prima. Esperanto. Esperanto, eccetera. Advanced Writing. Esperanto. Advanced Writing. E poi c'è Advanced Writing. Esperanto. Sono le tre tastiere disponibili per chi usa Biblos in inglese. Advanced Writing. Customize Keyboards. Eventualmente altri utenti che usano Biblos in inglese possono creare le proprie tastiere e magari se sono tastiere utili, se me le mandano io le inserisco come tastiere ufficiali di Biblos. Cannada attivato. Cannada è già attivato, quindi non necessita andare a ripremere invio o cliccare su questa tastiera e quindi è già operativa. Usciamo dai menu. Chiudo menu vuoto. Chiudiamo e adesso vediamo cosa scrive la tastiera. Premiamo le lettere F. F. Cannada Sign Virama. Cannada Sign Virama. Non so minimamente cosa sia il segno virama. S.L.W.R.U.C.NZ.L.F. Ovviamente J.O.S. mi pronuncia i caratteri in italiano perché io uso un J.O.S. italiano, ma se invece caricassi N.V.D.A. Sto scendo da J.O.S. e carico il J.O.S. e carico il J.O.S. e carico il J.O.S. e carico il J.O.D.A. Cannada lettera fa. Cannada vuoto signora. Cannada lettera. Cannada lettera sa. Cannada vuoto signora. che si usa a B.I.B.L.I.C.NZ.L.A. Io non so cosa significhino questi caratteri, però è una tastiera sviluppata da una persona madrelingua indiana che utilizza Biblos per scrivere nella sua lingua. E credo che sia una bella cosa per chi usa Biblos. in India o chi vorrebbe utilizzare la lingua canada qui in Italia o in altri paesi andiamo a reimpostare Biblos in italiano e adesso siamo tornati con le tastiere italiane per la lingua italiana scrittura avanzata perfetto vediamo ok perfetto funziona credo che sia tutto se vi è piaciuto questo video come sempre cliccate un like un mi piace se non siete iscritti al canale iscrivetevi al canale e magari lasciate qualche commento se avete qualcosa da dire oppure se volete che io realizzi un video su un determinato argomento che a voi fa piacere ciao